buongiorno buongiorno a tutti voi in questa luminosa giornata di sole comincio subito a dirvi che non sono molto avvezza a parlare con lo schermo del pc e quindi mi immaginerò di essere nella bellissima sala lettura del circolo dei lettori con di fronte a me voi partecipanti al mio gruppo di lettura ma spero anche immaginandomi volti nuovi di persone che vorranno seguirmi quest'anno il tema del mio gruppo è il corpo il corpo nella letteratura il corpo anche nudo un tema quindi poderoso a volte scabroso che ha implicazioni come dire di ogni genere dalla politica alla sociologia alla sessualità eravamo partiti con il novecento italiano e stavamo navigando in quello francese con sartre a febbraio in questo momento di sospensione però vorrei cercare di divertirvi parlando di un libro della letteratura anglosassone cosa che avrei fatto anche durante i nostri incontri e a tutta prima vi sembrerà che questo libro non ha niente a che fare con la tematica del gruppo sul corpo e invece vedrete che è proprio contrario il libro in questione è Alice in Wonderland Alice nel paese delle meraviglie un'opera veramente complessa mutevole e leggibile su differenti livelli normalmente siamo abituati a considerare e a classificare questo libro come letteratura per l'infanzia niente di più sbagliato Alice in Wonderland è un libro tra l'altro a cui io sono particolarmente legata e che colleziono in tutte le lingue probabilmente questa è una notizia che già si sa mi piace cercare anche illustratori illustratori particolarmente talentuosi da quelli ottocenteschi ai contemporanei vi faccio vedere due esempi della mia collezione la Atwell una illustratrice inglese come vedete dal tratto molto classico molto bello molto rotondo ecco che vi mostro uno Alice con il bruco e invece una autrice una illustratrice contemporanea la Rebecca d'Otremer che fa queste grosse tavole magnifiche vi faccio vedere almeno una di queste perché ne vale la pena se riesco ad aprire la pagina ecco qua abbiamo il coniglio che scappa vedete il coniglio che scappa e poi vi mostro il tè di Matti che è veramente fantastico come lo disegna lei eccoli qua in spiaggia eccoli non so se lo vedete è un po difficile comunque tanto per darvi un esempio della mia collezione e andiamo avanti Alice quindi dicevamo è un racconto che fa del nonsense il suo senso e costruisce una rete intricata di significati tra i personaggi della dell'azione è un libro davvero geniale e anche folle per tante ragioni vedremo come leggendo le pagine di Lewis Carroll oltre a divertirsi si può anche incappare in situazioni così di inquietudine perché le stranezze del paese delle meraviglie ritraggono alcuni vizi del mondo moderno e dicono gli psicologi che del libro si sono occupati come rappresentano una sorta di carrellata di casi clinici pensate che negli anni 50 del novecento è stata addirittura coniata l'espressione sindrome da Alice nel paese delle meraviglie che sarebbe ve lo leggo l'alterazione della percezione dell'immagine corporea di alcuni soggetti che soffrono di forti emicranie quindi l'impressione che il corpo si restringa o si allarghi tra l'altro di emicranie soffriva anche Lewis Carroll comunque comunque sia è sicuramente una lettura che consiglio a tutti perché non solo è spassosa ma rappresenta un viaggio interessante nella psiche di ognuno di noi io ho preso degli appunti perché poi parlando così ho paura di perdermi e quindi mi vedete guardare verso destra dove io ho un mio piccolo canovaccio due parole sull'autore come tutti sapete l'autore di Alice nel paese delle meraviglie è Charles Ludwig Dawson meglio conosciuto come Lewis Carroll chi era Lewis Carroll un matematico un logico soprattutto un bravo scrittore certo lo si conosce anche per le fotografie diciamo che era appassionato di fotografie di bambine travestite che lui abbigliava in un certo modo ma su questo magari indagheremo prossimamente dunque Carroll trentenne scrive Alice in Wonderland prendendo spunto da una gita in barca sul fiume fatta con un altro reverendo e le tre figlie Lidl tra cui la bella Alice la peperina Alice anche che all'epoca dovrebbe avere se non sbaglio dieci anni il libro poi viene dato alle stampe nel 1865 come vedete siamo in piena epoca vittoriana e in una prima versione c'erano i disegni di dell'autore mentre la poi la versione quella tradizionale ufficiale è illustrata da Sir John Tenniel nel 1871 Carroll scrive through the looking glass attraverso lo specchio che è la continuazione delle avventure di Alice questo è un libro ancora più enigmatico e come dire vagamente esoterico inizialmente comunque Alice in Wonderland ha molto successo come favola per i bambini ma col passare del tempo è sempre più considerato apprezzato analizzato analizzato studiato da tante da tanti personaggi di varie discipline linguisti in primis sicuramente per tutto il discorso sul linguaggio che c'è all'interno del libro le parole valigia i nonsense gli acrostici i giochi le filastrocche dagli scienziati dai matematici anche Pier Giorgio di Freddi ha scritto un piccolo saggio molto interessante sul libro e poi gli psicologi che ci vanno a nozze tutti gli artisti che si sono ispirati al libro penso ad Antonarto chiuso nella clinica psichiatrica a Rodèze che grazie alla traduzione del capitolo di antidanti di attraverso lo specchio si riavvicina dopo ben sei anni alla scrittura e per finire in bellezza il grande filosofo contemporaneo Gilles Deleuze che ha dedicato addirittura tutto un capitolo del suo poderosissimo logica del senso libro peraltro abbastanza inavvicinabile nel senso della comprensione comunque tutto un capitolo ad Alice e ragionando sul concetto di tempo contrapponendo sottolineando le differenze tra tempo Kronos e Aion ma torniamo a noi cosa cos'è che ci colpisce di Alice io come vedete potrei parlarne per dei mesi ma qui abbiamo un tempo limitato e per cui questo primo video sarà un'introduzione e la conclusione sarà nel secondo perché come sempre faccio con il mio gruppo di lettura voglio leggervi proprio dei passaggi direttamente dal libro Alice come tutti gli eroi come tutti i miti e le grandi fiabe oltrepassa il confine del mondo conosciuto sprofondando sottoterra tutti noi sappiamo che cade nella tana del coniglio cade nella tana del coniglio bianco e arriva in un mondo abitato da personaggi veramente bizzarri a volte anche nevrotici che vivono in un regno svagato ma allo stesso tempo crudele wonderland quindi è sì il paese delle meraviglie ma anche il paese delle domande ci sono tantissimi interrogativi all'interno del libro tante domande che ci riportano direttamente alla filosofia antica dalla da una parte la maieutica socratica e dall'altra la logica aristotelica non dimentichiamo che Lewis Carroll appunto insegnava matematica a Oxford e logica a Oxford dall'altro ancora si può delineare addirittura attraverso la caduta nella tana nell'antro il mito della caverna di Platone insomma come vedete ce n'è per tutti i gusti la caduta infatti ci porta in un mondo parallelo cioè il mondo del sogno dove anche la follia è intesa in maniera costruttiva la follia infatti è una costante che si ritrova in molti dei personaggi di Alice beh il primo di tutti è eccolo qui il cappellaio matto lo dice il nome stesso tra l'altro si considerava appunto matto perché i cappellaio usavano delle tinture al mercurio e quindi da potevano dare dei segni di squilibrio quindi cappellaio matto ma anche il mio adorato gatto del cishai è proprio insomma abbastanza non scherza non parliamo poi della regina di cuori che vuol tagliare la testa tutto insomma ce n'è ce n'è Carroll riteneva appunto che una manifestazione della follia fosse proprio non saper distinguere tra realtà e sogno e non ci stupisce quindi scoprire in questa mancata distinzione uno dei fili conduttori della storia di Alice comunque ecco la nostra eroina iniziare la sua avventura e a rischio della propria identità fare esperienza di una continua trasformazione del corpo ed eccoci al nostro tema ecco il tema del gruppo di lettura voi pensavate che me ne fosse dimenticata ma non è vero come avviene questa trasformazione la trasformazione è veicolata principalmente dai cibi dai cibi da qualche oggetto però principalmente dai cibi dall'ingestione di cibi diciamo così ed è una trasformazione radicale quindi in questo modo lei fa anche esperienza come dire di punti di vista diversi perché una volta è minuscola si schiaccia addirittura contro i suoi piedi un'altra volta è gigantesca diventa alta quanto un albero sbuca dalle cime le fronde degli alberi viene beccata da un piccione quindi anche qua il punto di vista sul mondo è molto diverso mi viene in mente un vecchio saggio di un sociologo franco cassano che si intitola approssimazione esercizi di esperienza dell'altro consigliatissimo dove lui mette in crisi i meccanismi attraverso cui l'identità dell'uomo tende a por se stessa come unico criterio di misura del mondo quindi anche qua c'è un legame in wonderland quindi di episodio in episodio in una continua metamorfosi fisica Alice scopre come in un sogno più vero del vero quanto sia come dire discutibile incerta evanescente quella realtà stabile ben regolamentata decorosa come dire statica immobile che le avevano insegnato a scuola la famosa scuola vittoriana qui nel libro così spesso derisa dall'autore e anche qui anche e qui anche a noi il tempo come al cappellaio matto ci fa degli scherzi e a questo punto devo come dire interrompere un po la nostra narrazione e salutarvi con affetto e darvi appuntamento al prossimo video il prossimo video per la continuazione e la conclusione del nostro discorso su Alice nel paese delle meraviglie e le sue trasformazioni nella prossima puntata diciamo così vi leggerò degli estratti proprio dell'inizio del del libro dove appunto lei comincia alla sua trasformazione e seguiremo passo passo il pensiero di carroll legato alla trasformazione appunto del corpo grazie e a presto ciao ciao